Ciao a tutti, noi siamo Niccolò Mariotti e 05 Giacchino e siamo qui per raccontarvi l'avventura dei vostri ragazzi. La mattinata è iniziata alle ore 8 dove i ragazzi hanno svolto la consulta colazione, a base di brioche e Nutella. Dopo la colazione i ragazzi sono saliti in camera dove hanno avuto un'oretta per riposarsi e subito dopo gli allenamenti sui tre campi. Gli allenamenti stamattina erano composti sempre a palleggio, passaggio e tiro, ma stavolta i ragazzi hanno cambiato campo e hanno svolto un allenamento di intensità superiore. Infine i ragazzi sono rientrati in hotel verso un quarto mezzogiorno dove hanno avuto un mezz'oretta per sciacquarsi e andare a pranzo. I chef oggi ci hanno cucinato lasagne di primo, di secondo roast beef con verdure freste e infine dessert. Nel pomeriggio si sono svolti i soliti tornei sul campo 1, 2 e 3, nelle annate dalla 2009 alla 2004, sia 3 contro 3 che 5 contro 5, mentre la serie C è andata ad allenarsi nella palestra di Cavalese. Terminati i tornei, i ragazzi sono tornati in stanza per le 6, si sono docciati. Stasera i cuochi ci delizzeranno con gnocchetti verdi e vitello con patate a seguire. Stasera i ragazzi si dovranno cimentare nella cena con delitto vestendo i panni di Sherlock Holmes per risolvere il crimine. Grazie per aver seguito questo appunto nel TGCamp, noi ci vediamo a domani mattina. Grazie.